in questo video tutorial vediamo come creare delle breakout rooms e qualche strategia da tenere a mente poi vedremo qualche pezzo di breakout rooms già fatte e registrate ovviamente con i volti oscurati dei miei allunni che hanno già partecipato in maniera molto attiva con la collaborativa e che mi hanno veramente resa molto felice perché sono riusciti anche se alcuni di loro erano molto piccoli sono riusciti veramente a partecipare un lavoro di gruppo a distanza in maniera veramente molto molto efficace andiamo a vedere come fare per una buona riuscita e terminate le lezioni pre pasquali e quindi con breakout rooms escape rooms e games vari sempre lavorando con gruppi piccoli gruppi ora vediamo come creare questi breakout rooms e che strategie posso darvi per la riuscita ecco quindi andiamo su google e andiamo a scrivere chrome web store e chrome web store andiamo a prenderci io ho già installato ma giusto per vedere appunto i passaggi iniziali e qua scrivo breakout rooms e poi questa è l'estensione che vi serve e qui dovrebbe quando cliccate su questa a me viene rimuovi perché ho già aggiunto lo trovate qua in alto quindi quando schiacciate questo specie di puzzle lo trovate qui le varie estensioni che estensioni che avete ok quindi qua sono puntate se lo cliccate appunto ho togliato e lo mettete quindi questa b qua che vediamo è la breakout rooms che ci serve ecco una volta che avete installato quindi io ora chiudo questa finestra per non creare confusione se clicchiamo sulla b questa b qui ci viene fuori questa finestra che io ho già aperto e ingrandita giusto per farvi vedere meglio i vari bottoni eccetera quindi faccio ctrl più così viene fuori un po più grande e riusciamo a vedere bene ecco quindi quando arriviamo alla finestra iniziale si presenta in questa maniera abbiamo meet che è la stranza stanza dove opereremo quindi nella stanza iniziale poi abbiamo le rooms creeremo le varie room in questo bottone di rooms però prima bisognerà creare i corsi diciamo e qua c'è l'impostazione dove si può fare io di solito lo lascio così scelgo semplicemente che deve aprirmi solo massimo di cinque finestre perché se no non riesco proprio a gestire quindi una è quella principale le altre quattro sono i quattro mini gruppi che creo quindi da settings quindi impostazioni andiamo ai corsi adesso creo direttamente un un corso prova per vedere come allestire quindi con il più e vado a creare un sample course ok chiamo così giusto per vedere e descrizione e facciamo per esempio youtube tutorial ok allora qua ho creato fate attenzione perché quando create l'istinto vuole è un errore che ho visto fare ad esempio qualcuno che ha dato una mano subito passava a rooms inizialmente capita a tutti di ignorare questo tasto qui però è vitale quindi salvare ok una volta che abbiamo salvato abbiamo questa conferma che è stato salvato andiamo sulle stanze room quindi da qui qua ci sono le varie stanze delle mie classi e qua troviamo ad esempio quello che abbiamo appena creato che è il sample course nel sample course come vedete non c'è nessun link iniziale ok quindi ora vado a prendermi un link della classe in questo caso non ce l'ho un link di sample quindi vado a creare direttamente uno da meet e dico vediamo è ingrandito un attimo ok facciamo nuova finestra crea una riunione vediamo di avviare in un secondo momento mi serve il link prendo questo link e torno alla breakout rooms che sto creando quindi questo è il nome del corso e adesso vado a creare le stanze quindi incollo qui la stanza principale che può corrispondere chi utilizza ad esempio google google classroom links può utilizzare anche quello io di solito lo creo direttamente da calendar che mi trovo meglio per un maggior controllo e poi si gestisco lì però si può anche usare quello di google classroom quindi una volta che ho creato quella principale vado ad aggiungere una stanza ok la stanza per facilitare poi per vedere le etichette la chiamo semplicemente room 1 room 2 eccetera poi mi piace anche aggiungere un minimo di qualcosa di colorato diciamo se io faccio ad esempio se avete mac una combinazione di windows troppo non lo conosco quindi control command e la barra scanziatrice mi vengono fuori i vari emoji e mi prendo un emoji da associare alla room poi questa me la tengo qua aperta oppure chi non ha questa combinazione della di mac possiamo andare semplicemente al sito di get emoji quindi qua chiudo e possiamo andare anche da get emoji e da qui non so se vogliamo fare una tematica di frutta per esempio mi prendo the lemon per esempio così una classe la associo così e la chiamo aggiungiamo un'altra stanza e il simbolo metto the lemon e poi copio prima a scrivere che copiare ma ci provo lo stesso ok quindi control c e qua control v e tolgo la mela che non mi serve bene e qua chiamo room 2 allora questa è la stanza 2 ora aggiungiamo un'altra stanza quindi abbiamo detto che creeremo quattro stanze e faccio incolla direttamente perché ha in memoria quella di prima e metto room 3 e cambio l'icona quindi o control command barra spezzettrize per avere gli emoji oppure semplicemente come abbiamo visto prima me lo prendo qua ok quindi una stanza associamo per esempio il kiwi e mettiamo qui e poi aggiungiamo ancora un'altra stanza quindi room 4 faccio sempre control v no perché ho già tolto la selezione quindi selezione di nuovo per non riscrivere room 3 e quindi cambio solo il numero e cancello la frutta associata e vado a prendermi un simbolo nuovo che questo potrebbe essere per esempio è l'arancia quindi mettiamo qui ok fatto questo e adesso osserviamo cosa succede una volta che faccio salva quindi questo è il link master main vuol dire la stanza dove i ragazzi sanno già arrivare quindi hanno già il link o è stato condiviso via classroom oppure è stato condiviso nell'orario o come avete fatto quindi qua arrivano tutti però l'unica cosa che non hanno appunto è l'indirizzo della loro stanza ora se faccio salva succede che abbiamo generato dei vari indirizzi dei vari mix e quindi 4 4 stanze 4 4 indirizzi mit che automaticamente mi ha generato quindi ho la stanza principale dal quale indirizzo è partito più le tre stanze che sono quattro stanze collegate ok fatto questo e abbiamo fatto salva torno in alto andiamo su mit allora qualcuno ho visto ad esempio così parlando con qualche collega a distanza così e non mi partono le classi non riesco andare avanti così cosa sto sbagliando adesso vi dico cosa era allora se voi fate start class e automaticamente volete aprire da qui le stanze non parte niente facciamo una prova io dico open breakout rooms mi dice di no perché appunto non ho creato ho creato le stanze sì però non ho spiegato in questo al programma bisogna dirlo che ho tre stanze se qua è zero non parte niente quindi attenzione era uno degli inghippi che ho incontrato appunto personalmente nella velocità e anche qualcuno che mi ha chiesto come mai non mi partono open breakout ok partono se cambio qui ok metto 4 ok quindi adesso ho 4 però io torno così per scrupolo ho la finza di salvare sempre salvo così anche se dimentico qualcosa almeno il passaggio dei 4 rooms adesso se schiaccio qua succede qualcosa ma prima volevo farvi vedere come vado a copiare i vari indirizzi vado su a assign breakout ad hoc e quindi vado giù e poi c'è questo tasto fate attenzione che se nella fretta dimenticate di mettere 4 qui e poi avete zero come abbiamo visto prima non riusciamo a cliccare qui e ottenere questo vi viene fuori non c'è niente ok quindi non vedete questi link qua come vedete anche i simboletti associati in questo caso vediamo se riesco a ingrandire un attimo ok quindi come vedete anche i simboletti quindi è molto così all'occhio cattura velocemente invece di scrivere semplicemente room 1 è molto almeno chi è visivo come me mi trovo molto meglio quindi prendo tutti questi indirizzi quindi command c lo copio e potete usare un foglio word una specie di block notice online io utilizzo notes mi apro un notes pulito nuovo ok e qua per chi non se lo ricordasse prima avevo menzionato come ottengo il emoji la tastiera di chi ha mac control command più bar spiazzettrice e vi viene fuori appunto la selezione ok detto questo apriamo una una nuova e qua con il control v come ricordate avevo già messo in coppia quindi lo ingrandisco perché è meglio sempre vedere in grande ok poi se fate spazio alla fine della frase il link si genera ok anche da notes o da un altro foglio che avete posti quello che volete l'importante è che ci sia una cosa a portata di mano mentre operate questo deve essere sempre disponibile quindi questa classe si chiama abbiamo detto sample class mi sembra ok chiamiamola così sappiamo che non è una classe vera ma una dove stiamo cercando di capire come funziona detto questo la basso un attimo ok quindi qua rimpiccioliamo un pochino la riduciamo la dimensione così riusciamo a vedere meglio ok quindi abbiamo copiato gli indirizzi abbiamo creato la classe andando su rooms ok da rooms ho selezionato la sample course non era sample class stessa cosa potrei anche cambiare da qua ma abbiamo capito che è quello di esempio in ogni caso ok i corsi eccolo qua posso anche cambiare il nome visto che ho scritto sample class facciamo per coerenza anche qua ok allora i settings l'abbiamo visto i corsi l'abbiamo visto il tasto importante di salvare ogni volta l'abbiamo visto e poi vediamo se non mi ha cambiato sample class non mi ha cambiato i links i links ce li ho già ok adesso cominciamo la lezione di meet ok allora se io vado qui e dico fammi partire i breakout rooms mi partono soltanto le quattro stanze partono in una maniera talmente veloce che uno potrebbe anche perdersi quindi è meglio far partire direttamente solo le stanze quindi open break up in maniera tale da vedere le quattro stanze che si aprono quindi se io schiaccio open break up adesso vedremo che le finestre fanno un pop up quindi proprio si aprono le quattro finestre quindi li posso posizionare dove voglio e poi avere un maggior controllo sposto la finestra iniziale metto in un angolino la ridimensione per avere maggior spazio per chi opera a queste stanze dalla lima a scuola non ha queste limitazioni perché la lima è grande e quindi possiamo mettere in sparpagliati diciamo nei vari angoli della della lima quindi da uno schermo invece dobbiamo purtroppo ridimensionare un po le quattro finestre aperte più il comando dell'estensione dove dopo ci servirà per lanciare dei messaggi oppure silenziare il microfono eccetera le stanze vanno ovviamente aperte prima dell'inizio della lezione e assicuratevi di spegnere questi altoparlanti altrimenti si sentono tutte le voci contemporaneamente delle classi invece se apriamo il questo altoparlante una classe un gruppo alla volta possiamo sentire le loro interazioni quindi affianco tutte e quattro le stanze dei gruppi in questa maniera in maniera tale da vedere una volta che i gruppi cominciano ad entrare ho una visuale da sinistra a destra quindi dalla room 1, room 2, room 3 e room 4 riesco a vedere in maniera allineata ovviamente uno schermo grande aiuta oppure con due dispositivi è una buona regola iniziare con tutte le stanze ammutolite quindi chiudiamo tutto quanto altoparlante microfono e videocamera perché poi possiamo procedere con quella levetta possiamo fare ad esempio una stanza alla volta e quindi posso gestire una stanza alla volta e accendere sia la telecamera che il microfono e anche l'altoparlante così inizialmente la stanza è preparata e quando sono pronta faccio partire la stanza principale quella dove i ragazzi hanno già l'indirizzo quindi sotto ho tutte le quattro stanze già pronte dove ho l'estensione ho anche l'indirizzo iniziale dove ci si incontra inizialmente apro anche il mio notes dove ho gli indirizzi a portata di mano perché può capitare che qualcuno nella chat magari gli cade la linea perde l'indirizzo invece di andare a rivedere che indirizzo è si va direttamente su notes abbiamo portata di mano il link vediamo che gruppo appartiene chi si è perso tra virgolette e facilmente possiamo copiare e incollare nella chat del gruppo nella chat della stanza principale non del gruppo chiudiamo un po' di finestre giusto per liberare un po' di spazio altrimenti abbiamo troppe cose aperte e qui ora vediamo una volta sistemato e affiancato tutte le stanze abbiamo quindi preparato dopo sarà tutto più facile spegniamo anche l'altoparlante della stanza principale così è tutto pronto ma a mutolito vado a preparare il lavoro che dovranno fare nei vari gruppi e quindi apro anche ad esempio ho già preparato un'attività e lo metto su classroom però è in bozza non la pubblico prima di averli tutti nella stanza principale altrimenti succede che gli arriva la notifica e cominciano a vedere invece quando entrano tutto è mutolito entrano ci saluta si fa l'appello e poi è anche pronto la bozza di lavoro in classroom allora si lancia la pubblicazione di classroom ecco quindi oltre alle quattro classi aperte ed affiancate abbiamo l'estensione aperta abbiamo meet principale aperto abbiamo la scheda di jumpboard aperta abbiamo anche classroom pronta per essere classico è pronta l'attività per essere pubblicata quindi questo sarà poi bisognerà sincronizzare mentre si farà l'appello di solito l'appello è in carico un allunno ascolto e nel frattempo è già proiettata la scheda di saluti iniziali e mando in onda diciamo pubblicazione dell'attività in maniera tale i ragazzi sono già a lezione e poi parte come dicevo prima l'attività in classroom ecco una volta che è tutto posizionato abbiamo in bozza l'attività possiamo già iniziare a proiettare la scheda di benvenuto la scheda di benvenuto summit quindi vado su presenta ora e andiamo su presenta ora e presento una scheda vado a selezionare l'attività del giorno e quindi vedo che viene proiettata in mit ovviamente quando si è su un mit e si fa presenta non vediamo che cosa stiamo presentando quindi una delle strategie che adotto è quella di estrapolare una finestra nuova dove metto lo stesso link della main room perché poi mi consente appunto di vedere che cosa stanno vedendo quindi vado a copiare questo link quello della stanza principale diciamo quindi apro un tab nuovo e vado a vediamo più e mi vado a copiare la main room faccio un click ctrl c e poi ctrl v incollo una volta che si è incollato estrapolo da lì e la stanza c'è la finestra sorry non la stanza in maniera da poterla gestire come dimensione ed affiancarla all'altra main room dove c'è la presentazione e poi quello che succede appunto che vedranno i ragazzi quando sono dentro è l'insegnante è logato due volte si è clonato diciamo perché uno c'è la presentazione quindi non vede che cosa sta presentando nella seconda estrapolata affiancata a quella principale si vede che cosa vedono quindi anche se mi sposto nella stanza nella main room e vado alla jump board che sto proiettando la finestra affiancata dove c'è una seconda volta il clone dell'insegnante riesco a vedere che cosa sto proiettando in maniera da avere anche la un maggior controllo quindi questa la scheda di benvenuto della sample class che vedono e quindi da una parte non vedo niente vedo soltanto chi entra eccetera ma sta presentando non è che mi dice niente di la verità in questa maniera faccio una specie di scorciatoia diciamo mi metto in condizioni di vedere come dicevo prima che cosa vedono gli alunni che cosa si sta presentando ricapitolando abbiamo l'estensione aperta abbiamo quindi tutto a mutolito abbiamo la main room dove si sta proiettando la jump board o l'attività poi abbiamo la coppia della main room le quattro stanze già aperte e il notes che si vede un po' dietro quindi se giro la diapositiva se mi posiziono sulla jump board la seconda finestra della main room riesco a vedere appunto sia i ragazzi che sono all'interno con i video accesi sia la presentazione e poi ci sono le altre stanze e anche a portata di mano abbiamo l'estensione aperta che posso spostarmi anche da lì da una stanza all'altra quindi spegniamo l'altoparlante altrimenti riusciamo a sentire un eco quindi dobbiamo assolutamente spegnere una delle due quindi le due stanze clonate una deve essere a mutolita e l'altra accesa altrimenti se spegniamo quella della main room non sentiamo l'accesso che l'accesso diciamo di ammettere una alla volta almeno io chiudo non è che hanno l'accesso diretto devono chiedere di essere ammessi quindi lascio soltanto soltanto la l'altoparlante della main room accesa e tutto il resto è spento quindi ricordatevi è importantissimo che se avete anche due dispositivi dove siete logati due volte cercate di spegnere in una quella almeno dove avete la visualizzazione della dove state visualizzando diciamo la presentazione e quindi una sola aperta e qua sotto abbiamo tutto pronto main room mi consente di passare anche quello è spento di passare da un room all'altro e il broadcast dove sto puntando serve per sentire tutte le classi ma non vi consiglio di tenere quel pulsante aperto perché si sente contemporaneamente quattro classi quindi un 26 27 ragazzi che discutono meglio tenere chiuso se si vuole annunciare qualcosa contemporaneamente alle quattro classi usiamo quel microfono e se vogliamo farci vedere che siamo presenti a tutte e quattro le classi possiamo tenere la telecamera accesa quindi diventiamo quasi l'occhio del del grande fratello diciamo quindi abbiamo l'opzione di sentire un room alla volta quindi se vedete quando accendo quello e sono room 1 si accende se è spento si spegne anche questo quindi posso passare sia dalla estensione oppure semplicemente da finestra a finestra che personalmente trovo molto più semplice però c'è chi preferisce magari manovrare il passaggio diciamo delle stanze dalla dall'estensione però avendo affiancato in questa maniera sia sia un maggior controllo almeno io mi sento con maggior controllo entro in una classe alla in un gruppo alla volta ascolto quello che stanno dicendo intervengo se ci sono necessità o hanno delle domande e mi assicuro che la main room e l'altoparlante sia spento perché altrimenti tutti i quattro gruppi sentono le voci lì ovviamente questo spegnere di questo altoparlante è soltanto dopo aver distribuito tutti gli alunni nei quattro gruppi quindi se lì è sempre il discorso di accendere un gruppo alla volta quindi microfono se voglio intervenire ascolto spengo passo un altro gruppo quindi possiamo giostrare diciamo da questo sistemazione oppure usare l'estensione e avanzare con quella levetta room 2 aprire e come vedete quando dall'estensione gestisco si accende automaticamente anche la finestra della room 2 se vado sulla room 3 e apro e vediamo che si è aperto l'altoparlante della room 3 avanza ancora e vado sulla room 4 e si è aperto se la spengo anche dall'estensione si spegne direttamente dalla finestra una volta che abbiamo tutto pronto la lezione sta per iniziare copio l'indirizzo della room 1 con il tasto destro la metto in copia quindi memoria del computer vado su classroom e pubblico e era in bozza quindi vado a fare modifica e poi assegno il lavoro vado a controllare ovviamente se il lavoro il link è funzionante in questo caso era un'attività di schermo e funziona una volta che mi sono assicurata che i link sono funzionanti torno a fare pubblica per gestire i gruppi intanto viene preparato una scheda sempre in già prima su slides della verità e poi su inserita come sfondo l'elenco poi metto i post it sopra per nascondere i nomi in maniera tale da scoprire l'etichetta la post it sopra una alla volta e poi assegnare spiegare il ruolo che hanno ognuno e poi indirizzare nella loro room un gruppo alla volta quindi prima escono il gruppo 1 e il gruppo uno ognuno ha un ruolo e chi ha lo speaker che è quello che presenterà il lavoro assegnato il manager che è il moderatore il timekeeper è quello che terrà il tempo di lavoro assegnato in questo caso sono 15 minuti e un 15 minuti e li metto anche a disposizione delle stanze nella chat il link per avviare il timer online quindi uno del gruppo dovrà assicurarsi di far partire e quindi entro quel termine devono completare completare la loro attività una volta che il gruppo 1 ha capito quello che devono fare e sanno a chi appartiene il gruppo 1 possono cliccare sul link che verrà messo nella chat e escono quando escono dalla stanza principale ognuno che si è recato nella loro stanza quindi copio il link sempre dal notes quindi avevo aperto la chat quindi torno un attimo indietro è aperta la chat la metto perché se la chat è chiusa non riescono a vedere e una volta aperta la pubblico una volta che i ragazzi escono dalla stanza principale devono spegnere sia il microfono che la videocamera in maniera tale che si accendono nella room 1 quindi a sinistra noi vediamo la room 1 e comincerà ad accendere sia la videocamera che il microfono se vogliono dialogare e l'insegnante ha la possibilità comunque di vedere che stanno arrivando l'importante è che sia chiuso l'altoparlante di quella stanza altrimenti si sentirebbe un po di confusione quindi se è chiusa loro parlano tra di loro e sanno già cosa devono fare e partono poi parte il gruppo 2 quindi si sposta il post it e il gruppo 2 sa chi ha quale ruolo e poi viene copiato il link della room 2 messa nella chat e spengono di nuovo il microfono e la videocamera della stanza principale come spegnere una luce di una camera diciamo di una stanza di un'aula per poi andare ad accenderla in un'altra quindi man mano che i gruppi vanno nelle loro nelle loro rooms destinate e nella main room si vede che sono andati via proprio perché si vedono soltanto le icona e non più la videocamera accesa quindi nella chat parte anche il gruppo 3 il gruppo 3 sempre e con lo stesso sistema con lo stesso sistema di prima quindi link dalla chat partono il gruppo 3 e poi l'insegnante sempre vede nella dopo vediamo un attimo una registrazione vede quando arrivano e dalla dalle dalle stanze che cominciano a popolarsi per comodità tengo un ipad un tablet per chi ce l'ha i nomi dei gruppi in maniera da avere proprio a portata di mano anche perché lo schermo è già occupato e non voglio spostare nulla quindi se ad esempio qualcuno si perde e mi dice mi sono perso e chiedo in quale room apparteneva non se lo ricordano perché può essere anche che ci sia qualcuno che non se lo ricorda quindi dal tablet risalgo subito senza dover cambiare nessuna finestra oppure spostare tutto l'ordine iniziale che almeno una buona mezz'ora ci è voluto quindi lì accedo sento quale alunno quale alunna si è persa e rindirizzo direttamente poi rimetto magari se quando rientrano o li cade la linea e la chat perdono il link per questo ci serviva notes e rimettiamo direttamente ad esempio se uno che si è perso era nella room for direttamente accedo da lì e lo reinserisco di nuovo il link nella chat poi ovviamente devo aprire l'altoparlante se non sento cosa mi dice purtroppo quando quel tasto è aperto tutte le quattro stanze diciamo i gruppi sentono l'interazione che avviene nella stanza principale quindi sentono anche se qualcuno che è lì che sta chiedendo di nuovo il link della sua stanza sentono quindi c'è un minimo di interferenza nel notes tengo anche a portata di mano il link dei 15 minuti del timer se per caso qualcuno non riesce a vedere in un gruppo il loro link oppure mi sono scordata di mettere nella chat sempre notes salva perché proprio dove tengo tutti gli appunti e in un secondo riesco a pubblicare nella chat il link che richiedono quindi ogni gruppo in anticipo ovviamente prima metto il link in maniera tale che non perdano tanto tempo a disposizione altrimenti i 60 minuti della lezione viene vanificata proprio per queste piccole distrazioni però se tutto organizzato in questa maniera fanno effettivamente non 15 minuti però di solito assegno 15 minuti perché chiedono sempre se possono avere cinque minuti in più quindi lavorano magari c'è qualcuno che qualche gruppo che finisce entro il limite assegnato però se non ce la fanno abbiamo comunque un margine di movimento di cinque minuti ulteriori dopodiché tutti rientrano nella stanza principale iniziano i lavori di gruppo l'insegnante entra un gruppo alla volta per monitorare oppure chiedere se ci sono delle domande eccetera una volta che le attività sono terminate annuncia l'insegnante annuncia in broadcast che mancano cinque minuti quindi non quel tasto lì perché la si sentono le voci ma si apre il microfono per annunciare che mancano magari cinque minuti sei minuti quello che è e automaticamente quella comunicazione fatta dal broadcast a quel microfono arriva simultaneamente in tutti e quattro i gruppi quindi una volta fatto questo l'insegnante si recca al gruppo 1 annuncia che per loro il tempo sta per scadere perché saranno i primi a rientrare nella main room poiché erano i primi ad iniziare l'attività procede ad annunciare la stessa cosa al secondo gruppo quindi il tempo sta per scadere l'insegnante prima ascolta per monitorare appunto che tutto sta procedendo bene poi apre il microfono e oppure anche il video volendo per comunicare che la loro il tempo a loro disposizione è scaduto e quindi una volta comunicato questo si chiude il gruppo 1 quindi la chiamata viene terminata al gruppo 1 per prima perché erano appunto i primi quindi è stato annunciato a loro per prima quindi si chiude la chiamata termina chiamata poi si procede con il gruppo quindi due hanno già avuto l'annuncio si dà qualche minuto di tempo per concludere e poi vedremo nella main room i ragazzi che cominciano a ripopolare e teniamo sempre quel microfono spento altrimenti si sentono le voci anche nelle classi negli gruppi rimanenti ecco poi il secondo gruppo una intanto possiamo anche chiudere con la finestra giusto per sfoltire procediamo con il gruppo 3 il gruppo 3 riceve la stessa cosa quindi stesso annuncio che il tempo sta per scadere e devono prepararsi per concludere e rientrare nella stanza principale una volta annunciata il gruppo 3 si chiude la chiamata del gruppo 2 intanto si dà qualche tempo in più diciamo per il gruppo 3 per uscire concludere uscire dal gruppo infine si procede con l'ultimo gruppo che erano gli ultimi che sono usciti dalla dalla main room e intanto vediamo sempre i gruppi che cominciano a rientrare nella stanza principale avevo lasciato in bozza però l'avevamo già detto prima che avevamo già pubblicato questi erano i gruppi non so perché sono tornate indietro ma comunque ok modifica pubblica assegna ecco assegna ma l'avevamo già intravisto prima e facciamo assegna mi dispiace che il microfono si era spento quindi devo fare il voice over della registrazione per questo sentite qualche cosa di svasato diciamo quindi anche questi gruppi l'abbiamo già visto e siamo arrivati agli ultimi gruppi che devono concludere l'attività una volta che il gruppo 3 ha ricevuto l'annuncio che il lavoro è terminato e devono prepararsi si annuncia la stessa cosa all'ultimo gruppo che a loro volta devono concludere le ultime cose che stanno facendo si termina la chiamata per il gruppo 3 che si vedranno appunto tra virgolette costretti a rientrare nella main room per l'appello in uscita quindi una volta annunciato anche il quarto gruppo la chiamata viene terminata anche per loro chiudiamo la finestra ancora per appunto sfoltire un po lo schermo che era tutto occupato possiamo anche chiudere l'estensione che non ci serve più anche là per liberare un po di posto e poi a ridimensionare anzi ingrandire diciamo la main room per poter vedere tutti quanti e fare il feedback finale di come sono andati i lavori di gruppo chiudo anche la chat per evitare appunto distrazioni oppure commenti che magari non c'entrano sulla attività svolta per il brainstorm finale se l'attività era lunga quindi hanno anche su classroom per poter ognuno ha una coppia in classroom per poter terminare a sua volta prima l'hanno svolto come lavoro di gruppo dovevano appunto cercare delle parole nascoste hanno fatto il brainstorm iniziale ognuno si è scritto le parole che mancano e poi da classroom sanno come muoversi da soli perché hanno fatto insieme possono andare avanti da in maniera autonoma diciamo e consegnare come un'attività che possono svolgerla come un'attività asincrona diciamo dopo aver chiesto feedback ai capi gruppo si procede con l'appello in uscita poi la lezione viene terminata con un saluto ogni aluno che viene chiamato nell'appello saluta i compagni con un goodbye e quindi escono uno alla volta e in questo modo l'insegnante che si era già assegnato un'eventuale assenza all'inizio della lezione può confermarla o meno in quanto invece si poteva trattare di un semplice ritardo un minimo di preparazione per creare le break up rooms ci vuole altrimenti l'improvvisazione praticamente non la si può fare perché il tempo è poco e quando appunto siamo su meet non siamo in presenza che dobbiamo pescare magari i biglietti per vedere ok che gruppo sei qua invece va tutto predisposto prima e poi la scheda va proiettata oppure l'insegnante beh io preferisco proiettarla sinceramente così vedono direttamente sulla jamboard sanno in che gruppo sono e i ragazzi man mano escono poi vediamo in dettaglio di che cosa sto parlando comunque una coppia la tengo qui in maniera tale da capire chi è in quale stanza per poter eventualmente individuare chi si è spostato ma finora tutte le classi che abbiamo lavorato nelle break up rooms sono stati responsabili anche chi sospettavo che magari non ci sarebbe riuscito ha fatto un bellissimo lavoro cioè non sottovalutate mai nessuno perché mi hanno veramente piacevolmente sorpresa è stato un bel lavoro da tutte le classi è stato un bel lavoro questo è tutto alla prossima puntata ciao ora vediamo un esempio in azione una classe che interagisce durante i lavori di gruppo non si vedranno i volti per la privacy ma giusto per avere un'idea di come si presenta la schermata preparata prima durante le break up rooms l'insegnante è presente dall'alto e controlla tutti i gruppi e può anche intervenire un gruppo alla volta o fare un annuncio rivolto ai vari gruppi utilizzando l'estensione che abbiamo visto prima della break up rooms la funzione di broadcast i ragazzi si dimostrano veramente responsabili ognuno copre il suo ruolo in maniera responsabile il moderatore cerca di contenere il gruppo il timekeeper di richiamare appunto l'attenzione al tempo e la sistemazione di una finestra così posta una accanto all'altra consente proprio l'insegnante di spostarsi agevolmente da un gruppo all'altro e una volta finito una bella passeggiata all'aperto non poteva mancare e ora questo è tutto alla prossima puntata ciao